Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi parleremo dei mixer audio, strumenti meravigliosi, potentissimi utilizzatissimi da tutti i tecnici del suono, da tutti i fonici ma sono strumenti davvero complicati allo stesso tempo, sono semplici e complicati allo stesso tempo ne esistono di tante forme, di tante dimensioni, di tante complessità differenti però noi oggi ci concentreremo sul funzionamento base di un qualunque mixer audio in particolare vedremo come funziona il mixer audio di Adobe Premiere prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it il sito internet che dovete visionare, che dovete guardare se volete vedere l'elenco di tutorial fatti fin adesso e se volete dare uno sguardo anche all'indice degli argomenti che tratteremo da qui alle prossime settimane ci sono anche articoli di approfondimento che spiegano per iscritto quello che ci stiamo dicendo in questi tutorial se vi fa piacere e io ve lo consiglio iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial come detto parleremo anche di altri software nei prossimi mesi quindi iscrivetevi e restiamo in contatto e poi c'è la pagina Facebook ovviamente cercatemi su Facebook come Fabio Ambrosi c'è una pagina mettete un like alla pagina e lì troverete le notizie sui corsi che faremo sul fabioambrosi.it su questo canale YouTube nei prossimi mesi, nelle prossime settimane con tutte le iniziative che faremo mia intenzione già detto è quella di fare dei tutorial live, dei corsi live qui su YouTube chiaramente lo faremo quando ci saranno un po' più di iscritti a questo canale in modo da avere anche più persone a cui rispondere molti fanno commenti, domandano approfondimenti sulle lezioni fatte o anche delle difficoltà personali ecco sarebbe bello in futuro avere la possibilità di fare dei live e rispondere così alle vostre domande direttamente qui su YouTube in tempo reale lo faremo più avanti, nel frattempo iscrivetevi a questo canale e alla pagina Facebook così sarete sempre aggiornati quando queste iniziative verranno messe in atto parliamo dei mixer audio in Premiere, non vi preoccupate perché può sembrare difficile in realtà il mixer audio di Adobe Premiere è veramente molto semplice esistono in giro dei mixer audio che sono qualcosa di imbarazzante se andiamo su Wikipedia e cerchiamo la parola mixer audio trovate delle fotografie per poter vedere veramente le tipologie di mixer che esistono ne esistono di semplici come può essere questo anche se può sembrare complicato, credetemi, questo è un mixer tutto sommato abbastanza semplice perché dico questo? perché se poi scendete trovate dei mixer audio che sono qualcosa di spaventoso questo è un altro mixerino semplice questo già diventa un mixer molto 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 interessante da utilizzare e poi c'è questa immagine che sinceramente ha sconvolto anche me è un mixer audio chiaramente da studio di quelli che si utilizzano quando si devono registrare i dischi o si devono realizzare delle colonne sonore per film importanti ecco questi sono mixer veramente complessi però se guardate bene alla fine la struttura è sempre quella cambiano chiaramente il numero delle tracce su cui è possibile lavorare cambiano le funzioni che è possibile adoperare in un mixer e in un mixer audio vedete questo è un altro scorcio di un mixer audio però sostanzialmente come potete vedere la struttura rimane invariata è sempre quella, abbiamo una prima parte, una prima sezione bassa in cui ci sono dei fader, dei cursori con cui è possibile aumentare o diminuire il volume o l'effetto che si sta utilizzando in quel momento e successivamente una serie di manopole, manopoline e funzioni che permettono di processare il suono presente nella singola traccia su cui si sta lavorando se guardiamo in Adobe Premiere la struttura è praticamente sempre quella abbiamo i fader chiamati, i cursori con cui è possibile modificare il volume di una singola traccia audio esistono poi delle manopole e delle funzioni che ci permettono di processare il segnale audio della clip o meglio della traccia su cui si sta lavorando esistono due tipologie di mixer audio in Premiere quello che vedete davanti a voi è il mixer delle tracce audio e poi abbiamo il mixer dei canali audio la struttura anche qua è più semplice ancora ma è sempre quella abbiamo un elenco con riprodotte le tracce audio presenti nella timeline e poi abbiamo determinate funzioni, determinati strumenti a cui è possibile accedere partiamo dalla differenza tra i due mixer presenti in Adobe Premiere abbiamo come abbiamo visto due mixer, il mixer delle clip audio e il mixer delle tracce audio come si aprono questi strumenti? semplice, andiamo sulla voce finestra navighiamo fino a cercare la voce mixer clip audio per aprire il mixer della clip audio sotto c'è mixer tracce audio scegliamo la sequenza di cui vogliamo aprire il mixer e il gioco è fatto, apriamo in questo modo i due mixer audio presenti in Premiere che differenza c'è tra questi due mixer? è abbastanza intuitiva, forse qualcuno di voi ci sarà già arrivato il mixer delle tracce audio serve per controllare il volume o comunque il contenuto sonoro di ciascuna traccia audio per intero ok? dall'inizio alla fine, a prescindere da quello che c'è dentro mentre il mixer delle clip audio controlla il volume delle clip presenti in timeline in un preciso momento temporale come potete vedere io qui mi trovo in questo frame al minuto, anzi al secondo, al quinto secondo e al ventiduesimo frame di questa sequenza, in timeline mi trovo una, due, tre clip posizionata sulla traccia 1, 2 e 5 se non vedo male, se non ricordo male, sì e nel nostro mixer delle clip audio ho una riproduzione del volume impostato su queste clip alla traccia 1, 2 e 5 chiaramente la traccia 3 e 4 sono vuote, non c'è niente qui in timeline quindi non c'è nemmeno il cursore ed è disabilitata perché chiaramente qui non c'è niente questa è una differenza importante perché se con il mixer delle tracce audio posso modificare il contenuto dell'intera traccia a prescindere da quello che c'è dentro con il mixer delle clip audio vado a modificare il volume delle singole clip presenti in un determinato momento nella timeline abbiamo detto qualche tutorial fa che per modificare il volume di una traccia audio è possibile utilizzare il gain, il guadagno, tasto C sulla nostra tastiera lo ricordate? Abbiamo già visto le varie funzioni presenti in questo pannello qualche tutorial fa abbiamo parlato del guadagno, ok? però facciamo un esperimento, qui il guadagno è impostato a 0 nella clip presente nella traccia 1 impostiamo un guadagno a meno 6 e se è vero quello che vi ho detto se io vado a modificare il volume, quindi il guadagno di questa clip presente nella traccia 1 teoricamente dovrebbe modificarsi anche il volume presente qui nel mixer delle clip audio diamo un 6, va, un 6 decibel di guadagno clicco su ok e non accade assolutamente niente perché? perché sostanzialmente sono due cose diverse il guadagno è un'aggiunta, è una spinta come potete vedere aumentando il guadagno di 6 decibel si è modificata la forma d'onda qui nella timeline prima era così, dando un gain di 6 decibel la forma d'audio, la forma sonora presente in questa clip è aumentata questo perché? perché la funzione guadagno audio che abbiamo già visto va a lavorare direttamente sul contenuto della clip non sulla clip in sé quindi sostanzialmente la prima differenza da notare è che quando utilizziamo il guadagno audio stiamo veramente alzando la sorgente sonora presente dentro la clip ok? quando lavoriamo sul mixer stiamo modificando il volume di questa clip ok? è una differenza sottilissima se volete mi spiego meglio, devo fare un'integrazione a questo tutorial perché riguardandolo mi sono accorto che probabilmente non è chiaro il segnale audio prosegue dall'alto verso il basso ok? il segnale audio entra sopra e scende sotto e viene diciamo effettato e prende i valori che sono presenti nel mixer audio quando modifichiamo il gain sostanzialmente modifichiamo l'audio prima ancora che entri dentro al mixer quindi chiaramente modificare il gain non ha alcuna influenza sul mixer audio questo è importante da capire perché il gain è qualcosa che viene fatto prima ancora che il segnale entri dentro al mixer nel momento in cui il segnale entra dentro al mixer è possibile modificare ulteriormente il volume con il cursore ma finché non entra dentro al mixer diciamo che comanda il pannello del guadagno audio quindi prima il segnale viene modificato da un eventuale guadagno audio perché il guadagno in genere è all'inizio del mixer fuori dal mixer è la prima cosa che c'è quando il segnale entra nel mixer e poi il segnale viene processato e modificato dal cursore audio presente nel mixer ipotizziamo che io imposto questo mixer a 0 db quindi questa clip audio ha un volume nel mixer di 0 db se io adesso vado ad abbassare il volume qui con la funzione guadagno audio diamo un meno 6 db vedrete che la forma d'onda diminuisce di potenza ma questo mixer non viene toccato quindi non confondiamo le due cose come è meglio lavorare? bene, dipende da quello chiaramente che state facendo il guadagno viene utilizzato quando per esempio si ha un audio bassissimo prendete questo blocchettino di audio qui ipotizziamo che sia una voce o un rumore che è stato registrato in maniera veramente molto bassa utilizzando il mixer audio chiaramente non possiamo andare più di un determinato limite che sono 6 db e quindi siamo molto limitati se io voglio alzare il volume di molto chiaramente l'unico modo che ho è utilizzare il gain diamo un più 12 e vedete che l'onda si è alzata notevolmente posso dare anche un facciamo una cosa esagerata un più 36 vedete che l'onda si è alzata quindi sostanzialmente il guadagno è qualcosa che deve essere inserito come extrema razio quando si vuole agire in maniera molto più forte di quella che ci può essere offerta dal mixer delle clip audio il mixer delle clip audio invece è un mixer che ci permette di fare i volumi se volete alle singole clip per raffinare il volume un'altra cosa che potete notare è come se io mi trovo in questo punto della timeline e imposto un volume e poi mi sposto in un altro punto della timeline vedete che il volume è cambiato ok guardate qui imposto ad un valore di meno 4,5 decibel mi sposto qui e stiamo a 2.7 perché? perché se è vero quello che vi ho spiegato prima questo mixer sostanzialmente riproduce quello che c'è dentro la timeline quindi qui stiamo lavorando su questa clip audio e impostiamo il volume per questa clip audio vado avanti qui chiaramente non c'è niente quindi questo canale è proprio disabilitato mi posiziono sopra questa clip audio che posso anche non selezionare non è importante modifico il volume di questa clip audio e come vedete il Premiere memorizza nel mixer audio il volume impostato direttamente su questa clip quindi qui abbiamo un livello e qui chiaramente ne abbiamo un altro questo è il mixer delle clip audio è un mixer che agisce sulle singole clip presenti in timeline caso diverso per il mixer delle tracce audio il mixer delle tracce audio va a lavorare sull'intera traccia audio quindi se io qui avessi tante clip audio differenti io con il mixer delle tracce audio vado a lavorare direttamente sull'intera traccia che comunque rimane a zero di default che posso alzare o posso abbassare vedete che il valore non cambia altra cosa che vedete eccoci qui che anche se mi trovo su un punto della timeline in cui la traccia audio 1 è vuota chiaramente qui non viene disabilitata perché comunque il mixer delle tracce audio controlla tutta la traccia A1 a prescindere da quello che c'è dentro questa è la differenza detto questo come funziona un mixer? partiamo dalle basi ok? allora intanto un concetto che credo valga per qualunque mixer anche quelli più complessi da studio che abbiamo visto prima il segnale audio quando entra dentro a un mixer segue una strada ben precisa che va generalmente dall'alto verso il basso ok? immaginate questa traccia audio e immaginate che il suono venga inserito in alto e scenda piano 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 e a mano a mano che scende viene diciamo influenzato dalle impostazioni che trova a mano a mano che prosegue la sua corsa appena entra un segnale audio trova questi strumenti qui se non li vedete aperti di default sappiate che c'è una linguettina in alto sul mixer eccola qui che se cliccata ci espande questo strumento del mixer audio che si chiama sostanzialmente rack effetti il rack effetti è un rack ovvero un contenitore in cui è possibile inserire vari effetti audio abbiamo parlato tempo fa del compressore audio abbiamo visto come inserirlo in ciascuna clip singolarmente bene la buona notizia è che un compressore audio può essere inserito direttamente sull'intera traccia ok? a prescindere dal contenuto che c'è al suo interno quindi io clicco sulla linguettina presente nella prima posizione del rack effetti oppure clicco direttamente sulla prima posizione del rack effetti no devo cliccare sulla linguettina scelgo ampiezza e compressione scelgo la voce compressore multibanda e come potete vedere in questa prima posizione del rack effetti del mixer audio di Adobe Premiere viene inserito l'effetto compressore multibanda se io voglio modificare le impostazioni chiaramente posso cliccare due volte sopra il nome di questo effetto mi viene aperto il solito pannellino che abbiamo già visto qualche lezione fa per modificare il compressore multibanda di Adobe Premiere quindi il suono appena arriva la prima cosa che incontra è questo effetto e ne viene influenzato poi possiamo aggiungere altri effetti per esempio possiamo aggiungere un riverbero ok? scegliamo uno dei tipi di riverberi che mette a disposizione Premiere e vedete che viene aggiunto un riverbero audio per modificare le impostazioni anche qui clicco due volte sopra il nome dell'effetto e mi viene aperto questo pannellino con cui è possibile modificare il riverbero che influenza questa traccia audio quindi il suono prima becca il compressore dopo aver beccato il compressore becca il riverbero attenzione all'ordine perché l'ordine è importante avessi fatto il contrario avessi messo prima il compressore o meglio prima il riverbero e poi il compressore ecco chiaramente il suono prima verrebbe riverberato e poi si prenderebbe il compressore quindi è importante l'ordine degli effetti in questo rack effetti ad ogni modo è un argomento avanzato che per il momento non vediamo per rimuovere un effetto basta ricliccare su questo menu e scegliere nessuno e tutto viene pulito il suono successivamente scende e incontra chiaramente altre impostazioni ignoriamo quelle che troviamo e concentriamoci su questa manopolina qua con la scritta S e D ai due lati cos'è questo? questo è il pan pot ovvero come abbiamo detto una traccia stereo può vivere o sulla canale di sinistra o sul canale di destra noi con questa manopolina decidiamo se il suono di questa traccia audio se è una traccia stereo chiaramente può andare verso sinistra o verso destra questo è il pan pot e si può modificare dando anche un valore numerico in questo campo diamo 0 e tutto torna al centro ignoriamo anche questo menu perché è un po' avanzato qui parliamo degli automatismi ma per adesso ignoriamo tranquillamente scendiamo e troviamo questi tre bottoncini la M, la S e la R la M serve per mettere in mute una traccia vale a dire se io premessi questo bottoncino e accendessi questa lettera M suonerebbero tutte le tracce audio tranne questa ok? esattamente il contrario fa il bottoncino della S il bottoncino della S mette in solo vuol dire che suona questa traccia audio e tutte le altre vengono messe beatamente in mute la R serve per indicare che noi vogliamo registrare se abbiamo un microfono o vogliamo fare uno speech su questa traccia audio per il momento ignoriamo perché è un argomento un pochettino più avanzato di cui non parleremo quest'oggi e poi abbiamo chiaramente il nostro cursore possiamo decidere il volume che ha la traccia audio l'intera traccia audio sia muovendo il cursore sia modificando il valore espresso in decibel in basso 0 chiaramente è il punto di default non accade nulla non c'è nessuna variazione nessuna modifica al volume viene applicata abbassando chiaramente abbassiamo l'audio e alzando alziamo l'audio questo è il mixer audio tracce di Adobe Premiere il mixer clip audio di Adobe Premiere funziona esattamente allo stesso modo con le differenze che abbiamo visto prima e con la differenza che qui non è possibile inserire gli effetti quindi se dovete inserire un effetto audio solo su una clip dovete utilizzare la procedura che abbiamo già visto in passato per esempio aggiungere il compressore audio quindi dovete navigare nel pannello effetti individuare l'effetto che volete inserire nella categoria chiaramente effetti audio e trascinare l'effetto a mano sopra la clip per il resto il funzionamento è sempre quello anche qui c'è un mute anche qui c'è un solo è possibile chiaramente mettere in solo una clip o in mute una clip e chiaramente anche qui c'è il pan per modificare la spazialità ok destra o sinistra della singola traccia questo è questo è il funzionamento base dei due mixer audio presenti in Adobe Premiere ci sarebbe tanto altro da dire ovviamente perché per esempio gli automatismi sono qualcosa di molto utile da utilizzare è possibile lo dico ma non vedremo come funziona attaccare collegare un mixer vero esterno piccolino da mettere vicino al vostro computer e farlo interagire direttamente con quello interno di Premiere si possono fare diverse cose e normalmente se guardate le immagini di un montatore video che lavora anche con Avid accade questa cosa c'è un mixerino sempre vicino alla postazione di un montatore video perché il montatore video magari può fare l'audio senza utilizzare il mouse ma direttamente con le mani nella prossima lezione vedremo come applicare gli effetti audio di cui abbiamo visto già qualcosina abbiamo già visto il compressore vi ho fatto vedere qui come inserire un riverbero anche se non abbiamo ascoltato nulla in realtà vedremo qualcosina in più nella prossima lezione poi ci sarà l'ultima lezione dedicata a come utilizzare Audition insieme al Premiere per farli lavorare in tandem quello è molto utile per poter non so pulire un rumore ecco Premiere offre diversi strumenti anche con la suite audio essenziale però chiaramente in Audition si possono fare delle operazioni un pochettino più avanzate terminata la lezione anche sull'integrazione con Audition parleremo dell'argomento che tanti di voi stanno aspettando che è quello dedicato alla color correction anche lì sarà un mondo fantastico da approfondire www.fabbiambrosi.it venite a trovarmi sul mio sito internet iscrivetevi a questo canale youtube quando saremo tanti chiaramente faremo anche delle lezioni live passate parola con i vostri amici c'è un pubblico prevalentemente maschile mi sono accorto a questi tutorial peccato perché secondo me invece le donne sono a molto mamma mia lo dico molto più creative degli uomini davanti ad una timeline e secondo me il montaggio video è un gran lavoro che dovrebbe vedere coinvolte molte più donne perlomeno io vedo che ci sono molti uomini che seguono questo corso sarebbe bello se ci fossero anche altrettante donne a lavorare a questo software che è veramente molto bello basta detto questo Fabio Ambrosi cercatemi su facebook al prossimo tutorial ciao